La notizia è un problema di forma di fare al vigliere, ma se non può essere presentata la nostra politica, anche se non è effettivamente presente, il mio problema di forma, di parte presente, una cosa che non accoglie il buono delle forze, non dico soddisfazione, ma accoglie il fatto che sia un problema che il condizionato con noi di Quartanessetta e un'altra forza politica presente per l'altro in maniera molto forte all'interno del nostro nazionale. Grazie. Grazie a me e la parola consigliere Tavalli. Grazie. 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 Grazie.